Sindaco, accordo firmato per quanto riguarda il passaggio della gestione sportiva dello stadio Bonolis al comune di Teramo. Adesso manca un importante passaggio, quello in consiglio comunale. Intanto un obiettivo che c'eravamo posti, un impegno nei confronti della città che ha mostrato una spinta enorme in questa direzione. Cioè quella di arrivare ad un'intesa, ad un accordo che è stato sottoscritto e che porti a raggiungere degli obiettivi importanti. Il primo, quello di risolvere la concessione che era stata sottoscritta nel 2006-2008 e che ha creato enormi problemi alla gestione dello stadio, di fatto impedendo lo sviluppo di tutte le sue potenzialità come strutture e come impianto nel suo complesso. La separazione della parte sportiva e della parte commerciale con la riappropriazione della parte sportiva da subito per il comune, ma direi per la comunità teramana, per la città teramana che si riappropria di uno stadio e costruisce un percorso per il calcio teramano di programmazione e di prospettiva. E poi anche la chiusura dell'arbitrato perché l'atto è anche un atto che porta con sé un accordo transattivo che definisce tutte le questioni che sono state discusse lungamente all'interno dell'arbitrato. È possibile pensare a un consiglio comunale straordinario dopo Ferragosto, subito dopo Ferragosto? Ma il consiglio comunale sarà comunque ordinario nel senso che non c'è bisogno di una straordinarietà. La straordinarietà si intende per il periodo di agosto, è possibile convocarlo senza ombre di dubbio, ma vediamo quali sono i passaggi, i tempi tecnici con grande serenità lasciando anche tutte le valutazioni del caso giustamente, come giusto che sia, al consiglio comunale e ai consiglieri comunali. Con un obiettivo che ovviamente non possiamo nascondere e nasconderci è che è quello di giocare già la prima partita del prossimo campionato di Serie D, partita casalinga ovviamente al Bonolis. Quindi il 25 agosto se la Coppa Italia dovesse giocarsi in casa il Teramo non avrà probabilmente il Bonolis? Vediamo, adesso vediamo se e quando sarà la prima partita casalinga, adesso non abbiamo fatto queste valutazioni al momento in modo molto oggettivo. State già pensando poi al bando di gara per la gestione sportiva? Certamente, è uno degli aspetti più importanti, è chiaro che fin quando l'accordo non arriverà completamento diciamo così, dopo i passaggi in consiglio, tutti i passaggi previsti non si potrà ufficialmente partire col bando.